Durante la rassegna internazionale del Fotofestival di Milano del 2015, dedicata alla fotografia d'autore, è stata ospitata dall'Istituto Italiano di Fotografia una mostra dedicata alla memoria della strage di Ustica, composta da 50 opere fotografiche in bianco e nero e da un'installazione. Utilizzando l'allegoria ho reinterpretato la fotografia di teatro che di fatto perde la sua caratteristica documentale per assumere un linguaggio più poetico. Ho cercato in questo modo di rievocare le emozioni vissute durante questo tragico evento che ancora oggi fa parlare di sé. In questo modo ho cercato di offrire una prospettiva sulla vicenda più intima ed empatica. È il 27 giugno del 1980, una calda serata estiva come tante altre, quando il volo dell'Itavia IH870 parte dall'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, destinazione Punta Raisi di Palermo. A bordo ci sono persone normali, su un volo normale, nella normale aerovia Ambra 13. È un volo così normale che, come sempre, il comandante Gatti fa le sue funzioni fra cui parlare ai passeggeri. signore e signori, buonasera, breve informazione sul volo della cadena di Cilatacchi. Andiamo procedendo a un quadro di 7.500 metri e circa due minuti fa abbiamo lasciato l'isola di Ponta per valare in linea retta su Palermo, dove finiamo di atterrare a partire da mezz'ora. Il vento procedendo verso il sud è in miglioramento, per cui a Palermo è previsto tempo buono, visibilità ottima, temperatura di 22 gradi e leggero elba. La nostra nottata dopo i decenni è stata da Bologna, via Firenze, Polcina. Ma quando tutto sembra procedere per il meglio, il tempo pare fermarsi. E' la stupidità umana dell'uomo che uccide se stesso, rappresentato anche in queste immagini, a far sì che questo aereo venga abbattuto. Proviamo a immaginare l'attesa, l'attesa di queste persone ignare di ciò che era appena accaduto sui cieli di Ustica, le loro emozioni, le loro preoccupazioni. Stupore, sgomento, rabbia, consapevolezza. La consapevolezza lascia spazio al dolore, le anime sono prese e un urlo interiore va a riempire i vuoti lasciati dai loro cari. E' attraverso gli oggetti appartenuti ad una persona cara che si cerca di far vivere il suo ricordo nella contezza che non potrà più camminare al nostro fianco. Le inchieste, le domande, i dubbi, le perplessità si sviluppano durante tutti questi anni con una voglia di cercare una luce, una luce di speranza, talvolta con esiti grotteschi. Questa è una storia di emozioni, dove ho voluto provare a reinterpretarle attraverso la fotografia. Cerchiamo quindi di immaginare cosa possono aver provato le persone colpite da questa tragedia. I resti dell'aereo, assieme ad alcuni oggetti appartenuti alle vittime, sono conservati all'interno del Museo delle Memorie di Ustica, a Bologna. E io vorrei ricordare, assieme a tutti voi, queste vittime attraverso la lettura di quest'ultima immagine così sfocata. Il ricordo è sfumato, ma la memoria è viva. E ho voluto ricordare queste 81 vittime, attraverso questa fotografia che rappresenta appunto lo sfocato dei nostri ricordi sviaditi. 81 immagini in fine art che sono state spezzate durante l'inaugurazione. l'inaugurazione e richiuse all'interno di questa carlinga d'aereo in vetro, voluta in vetro, materiale pregiato, che volevo fosse anche trasparente, che ci permettesse di vedere all'interno e di poter meditare su come migliorare noi stessi, su come migliorare il nostro modo di vivere, di pensare, il nostro rispetto. Volevo onorare queste 81 vittime che potrebbero essere parenti di tutti noi, potevamo esserci noi, poteva esserci chiunque. E attraverso questi gesti si involci. Spero di averlo fatto. Spero di averlo fatto. Spero di averlo fatto. Questo è un progetto che dura parecchio. La produzione avviene durante l'estate teatrale, appunto, che si tiene davanti al Giardino della Memoria, dove ho potuto riprendere questi magnifici, bravissimi attori professionisti, ma che si sviluppa durante un percorso anche interiore molto profondo che arriva dopo un lavoro di editing, di riflessione artistico e di post-produzione veramente impegnativo ma soddisfacente. Un grazie particolare a Tindaro Granata, amico ed attore, fra l'altro soggetto di molte immagini che troviamo in mostra, che ha offerto una performance dal vivo durante l'inaugurazione per impreziosirla. Grazie ancora, amico mio. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e collaborato, al Presidente dell'Associazione Vittime Daria Bonfietti, ai parenti delle vittime, al Presidente dell'Associazione Noi dell'Italia, al Professor Roberto Mutti, al Direttore dell'IF Maurizio Cavalli, a Guido Bartoli e a chi mi ha accompagnato durante questo anno e mezzo e mi ha sempre sostenuto. A mia moglie Barbara ed alle mie figlie Alessia ed Aurora. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato, al Presidente dell'Associazione Vittime Daria Bonfietti,